salve a tutti i lettori di android blog.it oggi ci troviamo a provare la videocamera del zopo captain s che ci è giunto in redazione grazie a zopomobile.it e parlando delle specifiche di questa fotocamera dobbiamo dire che è una fotocamera da 13 megapixel con flash led che come potete vedere è dotata anche di messa a fuoco automatica durante le riprese video e permette anche uno zoom che permette di arrivare fino a 4x ovviamente la qualità è molto scarsa nel momento in cui zoomiamo molto proviamo subito un pan veloce e un controsole per vedere come si adatta la fotocamera ai cambiamenti di luce grazie grazie